Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Sei arresti per bancarotta fraudolenta alla King SRL di Fano sequestrati beni per un milione di euro Vive a Pesaro la sorella del giudice ucciso nella strage avvenuta questa mattina all'interno del Tribunale di Milano il cordoglio del sindaco di Pesaro Ricci Il governo nega alle Marche lo stato di emergenza per i danni provocati dal maltempo a febbraio l'annuncio dato dal governatore spacca su Facebook Dopo il telegiornale torna l'atteso appuntamento con Primo Cittadino il sindaco di Fano Seri risponde alle domande dei telespettatori di Fano TV Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia La Guardia di Finanza di Pesaro ha arrestato sei persone per bancarotta fraudolenta e sequestrato beni per oltre un milione di euro agli amministratori della King SRL di Fano È stata denominata Operazione Regno quella portata a termine dalle fiamme gialle di Pesaro che hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare a carico degli amministratori della società King SRL azienda metalmeccanica di Fano specializzata nella componentistica navale salita agli onori della cronaca per aver cessato improvvisamente la propria attività lasciando senza lavoro decine di dipendenti I provvedimenti sono stati eseguiti stamattina a Fano, Sassoferrato e Nancona, Roma e Macerata e hanno interessato alcune delle dieci persone indagate di cui cinque amministratori succeduti sia la guida della King SRL dal 2009 alla data del fallimento nonché un consulente contabile In carcere sono finiti i boss Alberto Rosichini, romano di 56 anni e Massimo della Santa Fanese, 57 anni Paola Vicinanza, 48 anni di Napoli e Gaetano Di Carlo, 59 anni di Roma agli arresti domiciliari invece Francesco Giorgio, napoletano di 25 anni e Francesco Colicini, quarantenne di Macerata sequestrati beni, poi per oltre un milione di euro Nel momento in cui la Guardia di Finanza il primo ottobre del 2014 ha eseguito i primi sequestri per bloccare i primi beni immobili non esitavano, e così emergeva da un punto di vista tecnico dalle intercettazioni, non esitavano a cercare di distruggere quel po' di documentazione informatica piuttosto che sui server per poter cancellare ogni traccia cioè quindi nonostante avessero i finanzieri in casa che stavano perquisendo cercavano da remoto piuttosto che da un punto di vista materiale fisico di distruggere questa documentazione informatica per non consentire di capire quali fossero i reali rapporti di carattere economico e societario Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Pesaro sono state avviate a seguito di una denuncia da parte di rappresentanti sindacali dei lavoratori della società che lamentavano ritardi nei pagamenti dei dipendenti e indicavano una gestione non trasparente della proprietà stessa L'azienda era stata costituita nel 2009 per proseguire l'attività sociale dell'Art Inox SRL gravata dai debiti tributari per oltre 5 milioni di euro e dichiarata fallita nel luglio 2014 Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno permesso di smantellare un'associazione per delinquere finalizzata in particolare alla distrazione del patrimonio della King fallita a sua volta nel settembre 2014 ai danni dei creditori dell'azienda attraverso prelievi consistenti e ripetuti di denaro contante dai conti della società senza apparente giustificazione commerciale I provvedimenti hanno interessato quote di partecipazione di nuove società con sede a Roma, Recanati, in provincia di Macerata e Matera tre beni immobili, una villa con piscina e terreni agricoli a Magliano di Fanno e Cartoceto 13 unità immobiliari a Caminate di Fanno e 4 a Calcinelli di Saltara conti correnti e disponibilità bancarie per 89 mila euro Questi fenomeni, soprattutto in questi momenti di crisi diciamo si stanno, sono piuttosto diffusi però dobbiamo evidenziare nello stesso tempo che questi istituti giuridici previsti dal diritto societario spesso vengono usati da soggetti, imprenditori, consulenti spregiudicati per commettere questi gravi reati fallimentari quali la banca rotta e l'ho messo in rastamento di imposte quindi arrecando un grave pregiudizio ai lavoratori alle loro famiglie e al mercato, al libero mercato e quindi a tutti gli imprenditori onesti che rispettano le regole del mercato E soddisfazione è stata espressa dai sindacati sindacati che più volte avevano evidenziato alcune anomalie nella gestione poco trasparente dell'azienda KingSRL e sindacati che poi avevano inviato un esposto alle fiamme gialle Adesso parliamo della strage nel Tribunale di Milano perché vive a Pesaro la sorella di Fernando Ciampi il giudice fallimentare del Tribunale di Milano ucciso questa mattina insieme ad altre due persone dall'immobiliarista Claudio Giardello all'interno del Palazzo di Giustizia Attilia Ciampi lavora in una farmacia cittadina mentre il marito Attilio Calma è un dirigente amministrativo del Tribunale di Rimini che per tanti anni è stato giudice di pace a Pesaro, la coppia vive da diversi anni nella cittadina marchigiana il sindaco di Pesaro Matteo Ricci esprime profondo sconcerto per la strage una tragedia che in modo indiretto ha purtroppo scosso anche la città di Pesaro un dramma incredibile dice Ricci è dettato dalla follia siamo vicini alle famiglie delle tre vittime e dei feriti in particolare ha detto il sindaco Pesaro si stringe alla moglie e ai due figli del giudice Ciampi e ci uniamo al dolore della sorella Attilia e del cognato Antonio stimati professionisti che da anni vivono appunto nella nostra città il Governo nazionale ha negato alla Regione Marche lo stato di emergenza per il maltempo dei primi di febbraio lo rende noto il Presidente della Regione Gian Mario Spacca in un post sul suo profilo Facebook secondo il Consiglio dei Ministri scrive Spacca che pure riconosce la particolare intensità degli eventi di quei giorni gli effetti sul territorio non sono stati sufficientemente gravi da poter concedere lo stato d'emergenza lo stato d'emergenza aggiunge il Governatore Marchigiano è stato invece riconosciuto all'Emilia Romagna l'auspicio è che si possa recuperare quando si spera con esito positivo sarà valutata la concessione dello stato d'emergenza per il maltempo invece dei primi di marzo chi ha ricevuto lo sfratto per morosità incolpevole ovvero per esempio per chi ha perso il lavoro attraverso un bando potrà ottenere dei contributi vediamo come è un trend in crescita quello degli sfratti un'emergenza abitativa a cui stanno lavorando i servizi sociali di Fano e Pesaro grazie a questa collaborazione tra l'assessore Marina Barnisi la collega Sara Mengucci la Regione Marche ha potuto beneficiare dei fondi ministeriali contributi che attraverso un bando serviranno da aiutare chi ha ricevuto lo sfratto per morosità incolpevole e cioè quelle persone che non pagano l'affitto a causa della crisi economica o di gravi malattie infortunio o decesso di un componente della famiglia tale da incidere in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso c'è stata questa grande collaborazione che a volte diciamo forse non in tutti i settori è stata presente anche in passato è stato un lavoro importante che permette alla Regione Marche e agli altri comuni di poter utilizzare questo fondo quindi invitiamo la popolazione a visitare il bando sul sito del comune di Fano e questo diciamo è un grande risultato è un punto di partenza che sicuramente avrà un futuro in seguito a fronte dei 91 sfratti effettuati nel 2013 Fano ha ricevuto quasi 106.000 euro mentre Pesaro considerati 91 sfratti ne ha ricevuti circa 98.800 la proporzione tiene conto del nucleo complessivo delle famiglie che sono 30.000 a Fano e 40.000 nel capoluogo nel 2014 invece i provvedimenti di sfratto esecutivo sono stati 104 a Pesaro e 97 a Fano le richieste di esecuzione 129 a Pesaro e 101 a Fano mentre quelli eseguiti tramite ufficiale giudiziario sono stati 30 a Pesaro e 49 a Fano infine le richieste di convalida rispettivamente 179 e 126 Perché è importante il rapporto di collaborazione tra inquilini e proprietari? È importante il rapporto di collaborazione tra inquilini e proprietari perché possono accedere alcune categorie a questo bando in particolare se si effettua tra inquilino e proprietario un canone concordato con la riduzione almeno del 10% si può avere un contributo fino a 6.000 euro in più c'è anche un altro rapporto che si può avere un contributo di 2.000 o di 3.000 euro qualora poi ci fosse invece una situazione di deterioramento del rapporto il fondo di morosità incolpevole va ad agire anche sulla possibilità da parte dell'inquilino di accedere ad un altro affitto con un fondo di circa 2.000 euro per quanto riguarda Fanno le domande dovranno essere presentate entro l'11 maggio prossimo all'ufficio protocollo in via Sant'Eusebio 32 e via Garibaldi 34 dalle ore 8.30 alle ore 12 oppure al protocollo generale in via San Francesco d'Assisi 76 qui anche nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 la modulistica può essere scaricata dal sito web del comune o ritirata all'ufficio a relazioni con il pubblico in piazza 20 settembre e anche al settore politica e sociali in via Sant'Eusebio 32 in futuro saranno disponibili altri fondi in base ai dati del 2015 e c'è grande soddisfazione in casa Aset S.P.A. per l'ottenimento di una prestigiosa certificazione che tra l'altro porterà anche dei benefici economici con orgoglio annuncio che Aset S.P.A. ha ottenuto la certificazione secondo la norma Uni e Niso 14.001 che apporta vantaggi all'azienda sia di tipo ambientale come la riduzione degli impianti e quella del rischio di incidenti ma anche risparmi in fatto di acquisti di materie prime di bollette energetiche e di produzione di rifiuti Lucia Capodagli Presidente della Società Capitale Pubblico che si occupa di igiene ambientale del servizio idrico e di illuminazione pubblica ha comunicato oggi alla stampa l'importante certificazione rilasciata il 27 marzo scorso da Rina una società con sede a Genova tra le più affermate a livello internazionale l'adesione non era obbligatoria ha sottolineato la Capodagli si tratta comunque di una scelta volontaria adottata dal Consiglio di Amministrazione e ottenuta grazie al lavoro dei nostri collaboratori Ogni anno la nostra azienda deve sottoscrivere delle fideghiussioni che garantiscono il buon operato la tutela e quindi il non impatto negativo sull'ambiente e soprattutto relativo appunto alla discarica per cui non dovendo o perlomeno diminuendo di una certa percentuale gli importi di queste fideghiussioni il loro costo e quindi il beneficio sarà inferiore di circa 45-65 mila euro una cifra che possiamo dedicare ad altri servizi per il territorio e chiaramente siamo a disposizione degli enti comunali per decidere quali servizi e quali attività Sarà un impatto soltanto economico? No non sarà un impatto solo economico poiché la certificazione delle procedure e delle attività volte all'impatto ambientale avrà un ottimo risultato non solo per ora ma soprattutto per il futuro garanzia degli utenti e dei loro figli e quindi a tutela dell'ambiente e del territorio tutto ora inizia un percorso di mantenimento del certificato ogni anno verranno infatti eseguiti dei controlli il progetto invece sviluppato in sei mesi rientra in un percorso iniziato circa 14 anni fa l'azienda ASET SPA ha iniziato un percorso di certificazione nell'anno 2001 conseguendo appunto la certificazione sullo schema qualità quindi secondo la norma ISO 9001 poi questo schema di certificazione è stato nel corso degli anni esteso a tutti i servizi gestiti dall'azienda e nell'anno 2010 abbiamo integrato il sistema qualità con il sistema sicurezza per poi concluderlo appunto il mese scorso e quindi abbiamo chiuso un iter certificativo molto importante attualmente l'ASET SPA sta bonificando la rete dei sottoservizi nel centro storico di Fano dove l'inizio dei lavori partirà breve ed è già stato pubblicato il relativo bando per realizzare l'illuminazione del tratto di ciclabile Fano Fosso 6 ore cambiamo pagina L'AMPI che è l'associazione che raggruppa i partigiani d'Italia in collaborazione con il comune di Fano hanno elaborato un ricco programma per celebrare il prossimo 25 aprile vediamo In occasione del settantesimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo l'AMPI sezione di Fano Lida Antinori ha promosso decine di eventi culturali in collaborazione con l'assessorato alla memoria del comune nell'ambito della sesta edizione di Una mattina mi son svegliato Si tratta quindi di un'occasione importante non solo per ricordare quella pagina di storia locale e nazionale ma anche per provare a riscoprire insieme dei valori che tengano unita la nostra città i valori della libertà della democrazia del rispetto delle diversità Tra gli appuntamenti in programma è prevista per il 25 aprile prossimo l'inaugurazione di un monumento alla resistenza realizzato in bronzo che raffigura un uomo e una donna che si abbracciano proteggendo se stessi e la città dall'oppressione e che l'AMPI donerà a Fano alla sua realizzazione hanno collaborato anche diverse scuole attraverso 80 bozzetti presentati dagli studenti alcuni dei quali sono stati raccolti in un libretto distribuito dall'AMPI a chi donerà almeno 2 euro per sostenere i costi dell'opera Sono arrivati tantissimi lavori questi li abbiamo messi insieme in un opuscolo che poi abbiamo di nuovo distribuito alle scuole e da qui è nato lo spunto che l'artista Michele Ambrosini ha tratto per poter realizzare poi il monumento che verrà inaugurato il 25 di aprile Anche quest'anno verrà seguito un percorso? Sì il percorso istituzionale è quello che il 25 aprile con in testa il sindaco e tutte le autorità parte dal comune di Fano arriverà fino al giardino Biancheria e Morelli e lì sarà inaugurato il monumento alla resistenza A precisare il ruolo formativo ed educativo dell'AMPI nei confronti della collettività e l'importanza del ruolo di Fano durante la resistenza è stato il presidente provinciale Giuseppe Scherpiani Fu un contributo soprattutto di uomini di dirigenti di personaggi molto qualificati molto formati molto ben orientati politicamente fu un contributo che prefigurò poi quella che sarebbe stata la Repubblica Il programma dal titolo Una mattina mi son svegliato è nato sei anni fa grazie a una intuizione del presidente fanese Paolo Pagnoni che ha poi coinvolto le altre otto sezioni della provincia Il cartellone di eventi si è avviato il 14 marzo scorso e si concluderà il 12 luglio prossimo a Borgo Pace con la festa del partigiano Partiamo esattamente venerdì 10 con un appuntamento molto importante perché parleremo e ricorderemo se Brennizza ha 20 anni dal grande genocidio e qui in questa sala la sala della Concordia mercoledì 29 aprile ci sarà la presentazione di questo libro dedicato alle Dantinori chiude la manifestazione oltre alla festa dei lavoratori del primo maggio ormai consueta al Parco del Fagiano questo appuntamento alla Mediateca Montanari in cui parleremo di omocausto cioè uno sterminio lasciato sempre un pochino più in disparte che fu quello degli omosessuali durante i campi di concentramento Sindaco per un giorno Giorgia Chiara Baldarelli studentessa dell'Olivetti che ha affianchiato Massimo Seri il sindaco della città della Fortuna per un'intera giornata la Luna tra l'altro tra poco parteciperà in diretta all'ultimo appuntamento del sindaco di questa giornata che è appunto la diretta qui su Fano TV con il programma Primo Cittadino Baldarelli Giorgia Chiara ha potuto conoscere da vicino che cosa vuol dire fare il sindaco di una città come Fano Giorgia Chiara Baldarelli residente a San Lorenzo in campo e studentessa della Quinta B dell'Istituto Olivetti ha affiancato Massimo Seri in tutti i suoi impegni amministrativi per un'intera giornata dalle prime ore del mattino fino a sera tardi ha partecipato infatti a diversi appuntamenti dalle conferenze stampa all'incontro per la difesa della costa passando insieme a Seri anche i momenti di pausa un'esperienza da primo sindaco per un giorno che verrà ripetuta ogni mese ogni volta verrà scelto un cittadino che mostrerà la sua disponibilità e il suo interesse a conoscere la pubblica amministrazione tutti coloro che fossero interessati all'iniziativa possono inviare la richiesta all'indirizzo mail sindaco chiocciolacomune.fano.ps.it o telefonare allo 0721 887 264 o 887 201 il telegiornale dunque finisce qui tra poco primo cittadino vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci un buon proseguimento